Ci si può fidare degli analisti finanziari e delle previsioni di borsa? Questa è la domanda finale che un lettore del quotidiano domani ha posto a Salvatore Gazziano all'interno della rubrica La posta del portafoglio. Il signor Michele è rimasto scottato dalle famose obbligazioni turche che, nonostante le cedole del 9%, nel corso degli ultimi anni hanno perso quasi il doppio del loro valore a causa della svalutazione della lira turca. Nel 2017 le numerose previsioni degli analisti di una primaria società di rating mondiale sembravano positive sulla Turchia e invece è stato un susseguirsi di cattive notizie e il valore della lira turca è precipitato a vista d'occhio. Allora è più che corretto domandarsi se ci si può fidare delle previsioni degli analisti finanziari, strapagati delle note banche di investimento mondiali. Grazie alla risposta di Salvatore Gazziano vediamo di fare il punto sul tema scottante delle previsioni sui mercati finanziari. Van de Veer, uomo d'affare olandese, presidente del consiglio di sorveglianza della Philips ed ex amministratore delegato della Royal Dutch Shell, ha detto una volta che, come gnu che migrano, gli investitori si seguono a vicenda e seguono l'analista. A volte incontrano un burrone nel loro viaggio e il signor Michele ha incontrato proprio un burrone come quello turco, ma la colpa non è soltanto dell'analista che ha sbagliato clamorosamente, ci ha messo anche del suo a pensare di costruire un portafoglio partendo dalle cedole da incassare. È una cavolata che sta pagando cara ed è in buona compagnia perché molti risparmiatori italiani si lasciano incantare da dividendi e cedole, i frutti, senza guardare alla buona salute degli alberi che li dovrebbero generare. E anche qui ci sono molte società di gestione e banche che sfornano continuamente prodotti e strumenti finanziari che sfruttano quella che è spesso una trappola mentale di molti risparmiatori, con fondi che pagano cedole talvolta inesistenti perché prelevano i soldi dallo stesso capitale versato dal risparmiatore. Non esistono in sostanza rendimenti senza rischi o ritorni allettanti sicuri. Bisogna diffidare di chi la fa troppo facile. I mercati finanziari offrono anche grandi opportunità agli investitori, ma non regalano nulla. Investire in obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro espone al rischio valutario, ovvero che un paese che ripaghi il suo debito con una moneta così svalutata che una volta cambiata in euro ci si ritrovi con molto meno capitale di quello che si era investito, anche se si sono continuate a incassare le cedole. Ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo video pubblicato settimana scorsa, che ha fatto letteralmente il botto su YouTube. Quello che spesso sfugge è come funziona esattamente il sistema delle previsioni, e ci vuole molto tempo per capirlo e prendere delle batoste aiuta. Ci sono poi migliaia di siti e giornali che rilanciano consigli finanziari allo scopo di avere persone che fanno una marea di click sugli articoli, che consigliano questo e quello riprendendo gli studi degli analisti e degli economisti. Cercare una soluzione veloce, facile e gratuita spesso porta a scontrarsi, prima o dopo, con la realtà dei fatti. E come abbiamo visto ci si può far male, molto male. Fidarsi del giudizio degli analisti finanziari come degli economisti per investire è qualcosa che un investitore serio e un po' scafato non dovrebbe quasi mai fare. La sola funzione delle previsioni in campo economico è quella di rendere persino l'astrologia un po' più rispettabile. Diceva un certo John Kenneth Galbraith, uno degli economisti più assennati dello scorso secolo, che ammetteva le pecche della sua categoria. Non facciamo previsioni perché siamo in grado di farle, ma soltanto perché qualcuno le richiede. Agli inizi del 2000 lo stesso Galbraith pubblicò un saggio molto attuale, l'economia della truffa, un libro che racconta, già dal suo titolo, l'ingresso del mondo moderno nell'era dei grandi crack, delle crisi economiche e degli scandali finanziari. Ora il contagio si è allargato anche alle banche e addirittura agli stati sovrani. C'era tanta provocazione nella tesi di questo economista, spesso controcorrente, scomparso nel 2006 alla veneranda età di 97 anni, ma anche un fondo di verità per quanto sgradevole. Vi era quasi un paradosso nelle tesi di Galbraith. Il sistema economico internazionale è entrato nell'epoca della frode innocente. L'inganno e il falso sono accettati sia da chi li compie, società, banche e stati sovrani, sia da chi li subisce, il risparmiatore, perché ormai endemici al nostro tessuto sociale. Armato dalla consueta forza provocatoria e ironica, Galbraith faceva luce su un sistema completamente assoggettato sempre più alle regole delle grandi corporation e della speculazione. Un mondo che distorce a suo piacimento la verità, dando vita a miti e leggende, e dove la speculazione e l'avidità diventano supreme forme di ingegno. Negli ultimi vent'anni dal saggio di Galbraith, il modo per accalappiare i clienti è certo cambiato e si è evoluto, ma la sostanza rimane la stessa. Fare previsioni e diffondere report con target price o consigli buy e sell, comprare e vendere, è evidentemente una liturgia indispensabile del sistema. In realtà, come viene spesso ricordato, sono i mercati a fare le performance, e non chi vende, confeziona prodotti o fa le previsioni, che spesso valgono meno del tempo di scadenza di uno yogurt. Il diffondere previsioni viene spesso usato come arma di marketing dalle banche d'affari per giustificare il proprio valore aggiunto e dare l'idea di una conoscenza superiore dei mercati. Nella realtà, i risultati offerti nell'85% dei casi dagli stessi fondi di investimento di queste banche smentiscono miseramente questa capacità. Lo dicono gli spietati numeri, più spietati dell'andamento della lira turca. Ti è piaciuto questo video? Hai appena visto un estratto della lettera settimanale di Salvatore Gazziano? La newsletter è il riverente dove si analizzano i temi caldi del mercato in modo non convenzionale. Se vuoi conoscere la versione completa e non perderti analisi e idee di investimento WOW, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!